Quella bici era mia? Magari me la rubano. Non credo che ruberebbero qualcosa proprio a te. Ti ho scritto in faccia che sto sarò dentro, eh? No, c'hai scritto in faccia che non sei regbista. Eh, meno male. E quindi mio padre ti sta obbligando a giocare a rugby? Sì. Dovresti cercare di non andargli troppo contro, di assecondarlo se puoi, perché per lui è un periodo difficile. Sei venuta per dirmi questo? No. No, sono venuta... Non sapevo che cosa pensassi di me, allora... Che cosa penso di te? E se che lo dite e mi chiedi che cosa penso di te, io ti rispondo. No, infatti non te l'ho chiesta.